non siamo più terroni in merda eccolo figlio più accoglienza più 49 milioni grande ministro di 49 milioni che fine hanno fatto ci dai tu vai grande salvino siamo terroni in merda non siamo più terroni in merda la ricoste la ricoste il telefono il telefono il telefono è mio me lo dovete dare dai 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 fatelo una storia importante una storia importante